Una lettera aperta al commissario prefettizio di Avezzano con cui i responsabili della FIMCISL, della FIMCGL e della WilmWil chiedono di essere ricevuti con urgenza. Preoccupa il silenzio e la scarsità di informazioni con i quali è avvenuta la vendita del 100% delle quote dell'azienda più grande del territorio alla start-up cinese Vuxi. Vendita avvenuta a fine luglio mentre sono ancora in vigore i contratti di solidarietà per tutti i dipendenti, dirigenti compresi, della multinazionale produttrice dei semiconduttori. Un'acquisizione che non convince e a essere critica è soprattutto la CGL che da mesi chiede insieme a tutte le altre parti sociali di conoscere il piano industriale e le reali intenzioni dei nuovi vertici aziendali. A oggi però nessuna risposta e tutto rinviato a settembre. Il fatto che non ci siano informazioni soprattutto sul piano industriale che sta dietro all'operazione di vendita per noi rappresenta un segnale, un campanello d'allarme. Insomma un passaggio, un'acquisizione avvenuta secondo voi alla cieca? Direi proprio di sì, tanto è vero che doveva avvenire prima nei confronti di un certo acquirente e poi alla fine si è concretizzata con un acquirente diverso. E comunque i contorni dell'operazione non sono stati resi noti, sono attualmente ignoti appunto. L'unica cosa che noi sappiamo è che l'azienda pare che abbia in programma degli incontri con i lavoratori che si terranno comunque soltanto a settembre. Quindi una vendita avvenuta a luglio di cui a oggi ancora non si sa nulla. Quello che non è chiaro è che cosa andrà a produrre questa azienda, in quale modo, se quindi le produzioni che verranno effettuate garantiranno l'occupazione che c'è in questo momento e anche il contenuto industriale che c'è in questo momento. La preoccupazione è che invece si possa andare incontro a produzioni che possano richiedere un numero di dipendenti minore e che comunque abbiano dei contenuti industriali inferiori, diciamo, di un profilo inferiore.